...chi sluciaio a sui balsichri mestierof ...23 Uuuuuh, wat eto da ...eto top ...come sempre Arthur Stroutins, eccolo qua che si rinnova il duello che L riceve, fa saltare perfettamente il closeout di Crawford gli tira in fai... ...per Wright che arriva fino in fondo, stoppato da Sorocas ribalzo di Bin che fa correre il 3 contro 2 di Varese alza Treichel ...Maric difende alla grande nonostante i suoi 35 anni, allora Kel non gioca sullo slip di Sorocas e si prende la tripla, in step back a segno, Treichel ...a giocare le sue carte per conquistare quella che sarebbe la sesta vittoria stagionale intanto palla alzata di Kel non va bersaglio ma c'è il rimbalzo in attacco numero 3 per Milano in questo primo quarto Kel attacca Zanotti riesce a batterlo e poi in rovesciata segna il canestro del più 11 poco da fare per Zanotti il campo Orakin va da Kel blocco di Egbunu ancora Kel e questa volta va dentro di potenza pallata sul 5 a 0 Kel prende il fondo buono scarico interno per Egbunu che questa volta riesce adesso si trova a dover spingere probabilmente il penultimo possesso Varesino piazza anche la schiacciata Treichel e allora si porta a casa Kepin rischia un pochettino qui sulla ricezione dopo il passaggio di Gentile che adesso va da Treichel nel mismatch contro Zanelli Kel si appoggia al tabellone Kel ha copiato con Achele vuole attaccare Kel gran palla per Alessandro Geneschi taglio di B-Liga non viene servito poi Alviti per Kel tanti metri per alzarsi da 3 punti segna la bomba Tresciuto da quando Elegar ha dato l'addio alla squadra ora attacca Kel alza la parabola va a bat quello spieglio per avvicinarsi al canestro l'errore perché lì Agbunu fa paura a tutti allora Kel attacca il centro scarico per Agbunu che arriva negli ultimi magari 3-4 minuti a giocarsela realmente la partita gentile per che taglia Ricciolo molto bene ma fino in fondo appoggia il tabellone a giocarsela il primo punto di Delfino che però perde la maniglia Bin la recupera prova a spingere Sarve Jones extra pass in angolo per Kel tiro comodo il centro che ha da tutto l'anno il 7 su 11 e il 4 su 6 questa sera si alza e spara dopo questa trip anche Kel tutti segnati in quasi 4 minuti di ripresa Kel lo sa e vuole provare a scombinare le carte sul tavolo triestino si appoggia di mano Corsa sbagliato rimbalzo offensivo Cannon col tap out ma la palla nelle mani di Jones corre ancora una volta Varese Kel per Bin da fuori Gentile però fa buona guardia gli stop al tiro conquista anche il ribanzo difensivo adesso vorrebbe probabilmente attaccare lui in uno contro uno si va da Kel il quale si prende la bomba